che bello qui sì è il mio posto preferito ci vengo spessissimo da solo a pensare a riflettere e ci hai mai ripensato a quella notte? certo il mio ruolo è stato interessante e divertente perché è un ruolo ricco perché ho fatto un personaggio un po' ribelle, un po' maschiaccio, un po' bambina, un po' donna, un po' mamma un po' un sacco di cose quindi mi sono potuta divertire nel mio lavoro di interpretazione a cercare di trovare le note migliori e soprattutto sono stata aiutata dalla regista che ha molto lavorato sul lavoro appunto attoriale cosa che non succede sempre, non c'è sempre questa cura il ruolo mio penso che sia il più bello di tutti, è divertentissimo è tante tante cose e poi a me appunto che sono comunque un carattere abbastanza vivo ha calzato a pennello nel senso che non è che mi assomigli il personaggio però mi ha dato la possibilità di giocare su tante corde piango, rido, mi arrabbio, ci sono momenti più tenere veramente a livello teoriale c'è tanta roba, tanta roba c'è tanto dialogo, è un film credo in gran parte basato sugli attori è stata una delle esperienze più belle che io abbia mai fatto nel senso una di quelle più intense grazie a tutti